Assessore Mascarin, tra pochi giorni inizia l'anno scolastico e i primi a partire sono gli asili nido, vero? Sì, questa ormai è un'abitudine nel nostro comune che è il primo sul territorio provinciale a riattivare i servizi comunali per lo 0-3 anni, quindi nido, sezione di raccordo, sezione primavera e centro gioco. Quest'anno ovviamente si partirà con dei dati anche diversi, l'anno scorso avevamo iniziato l'anno scolastico 22-23 con 102 bambini da graduatoria in lista d'attesa, quest'anno iniziamo con 47 bambini in lista d'attesa da graduatoria, quindi un passo in avanti significativo che andrà a risolversi nei prossimi due anni con la realizzazione dei nuovi tre asili nido che abbiamo avuto la possibilità di finanziare con i progetti PNRR. Dove sono stati fatti gli aumenti? Gli aumenti sono collocati fisicamente all'interno di una nuova sezione, una logica 0-6 anni che è stata inserita all'interno della scuola dell'infanzia statale di Vallato e parallelamente con l'implementazione di una sezione di nido all'interno della struttura del Gaggia a Fano 2. E quindi questi sono i numeri aggiuntivi che quest'anno aumentano la capacità di accoglienza nei servizi 03 che vedranno anche altre due importanti novità che cogliamo l'occasione di riportare che sono che per i vecchi iscritti già dal 6 si inizierà con un tempo pieno, quindi fino alle 16 e poi con il prolungato a 17.30 a partire dal mese di ottobre. Ma già dal 6, quindi da domani l'altro, da mercoledì, inizierà anche il servizio di riflessione per il nido e quindi si inizierà decisamente a regime. Invece il 13 avremo di settembre la partenza per le altre scuole, quindi l'infanzia, se comunale che statale, l'elementare e la media, con l'avvio anche del servizio di scuolabus. Su riflessione scuolabus alcune informazioni, sullo scuolabus abbiamo anche quest'anno circa 500 iscritti, che è un numero importante perché vuol dire che un fanese su 100 sostanzialmente ogni mattina salirà sugli scuolabus comunali ed è una buona risposta rispetto anche ai temi della mobilità e poi abbiamo un'ulteriore crescita dell'iscrizione al servizio di riflessione. Quest'anno siamo arrivati già in partenza a quasi 2.400, quindi con un aumento di un ulteriore 12%, un risultato ovviamente positivo. Ricordiamo poi che da settembre, grazie all'aumento della fascia di esonero Isee, avremo circa 300 famiglie che usufruiranno, avendo un Isee inferiore a 5.800 euro, gratuitamente degli asili nido, della riflessione scolastica e dello scuolabus e anche questo credo che sia una notizia importante da ricordare. Ovviamente nel periodo estivo si stanno realizzando anche interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono stati fatti già in alcune strutture importanti, penso allo 03, penso alla scuola sempre Nido e Gagia di Fano II, fallato per ovviamente ospitare i nuovi bambini di Nido, ulteriori interventi al Corridoni, alla scuola primaria Gentile del Porto, alla scuola dell'infanzia Trottola, ulteriori interventi sono stati fatti e verranno fatti anche nelle strutture di Albero, Zurro e di Torrette, senza considerare gli interventi importanti sulle impiantistiche fatti al Padalino. Partiranno anche i lavori per la nuova scuola Cucurano Carrara? Siamo nella fase degli appalti per i due nuovi asili Nido di Bellocchi e di Vallato e per il nuovo Polo 06 anni, perché non sarà solo Nido, ma sarà anche scuola dell'infanzia di Cucurano. Ci attendiamo l'avvio dei lavori per la fine dell'anno dopo il mese di novembre, quindi tempi molto stretti, ma anche tempi molto rapidi, ovviamente, poi per l'attivazione di questi nuovi servizi, la cui scadenza, lo ricordiamo, è il collaudo e l'attivazione entro settembre del 2026, per cui veramente domani l'altro.